buongiorno mattina piuttosto fredda in pianura padana qui alle mie spalle in queste campagne del reggiano sono scese le temperature minime solo 1,6 gradi manca però la pioggia al nord qualche cosa cambierà nei prossimi giorni cominciamo però dall'uragano mediterraneo a pollo che ancora interessa le coste della sicilia soprattutto orientale ancora nelle prossime ore precipitazioni piuttosto intense e venti di tempesta con mareggiate sulle coste il mediken si allontanerà verso sud est attenuandosi per fortuna non transita in pieno sulla sicilia viceversa al nord prime visaglie di piovaschi al nord ovest sabato un secondo impulso perturbato fra sabato e domenica con piogge regolari al nord e in parte al centro la perturbazione più attesa è tesa fra domenica 31 e lunedì 1 novembre con piogge diffuse al nord temporali al centro e temporali che arrivano anche al sud notizia interessante a visaglia dell'inverno che lentamente avanza arriverà la primavera nevicata sulle alpi con 20 30 centimetri oltre 1500 metri